Dopo gli attacchi alla sua persona, le polemiche a seguito della sua assenza al Consiglio Comunale lo scorso 2 luglio e le relative dimissioni, il consigliere del Movimento 5 Stelle di Chieti, Argenio, fa un passo indietro per rispetto, dice, a quattro anni di battaglie. L'unico atteggiamento ambiguo, precisa Argenio, l'hanno avuto i consiglieri di Forza Italia che prima hanno messo le corde di primio e poi si sono piegati alle solite logiche politiche tenendo in sella il sindaco. Lo scorso 2 luglio, nella seduta fondamentale del Consiglio Comunale per il futuro dell'amministrazione di primio, Argenio non c'era perché in vacanza con la famiglia. Una freccia in meno nella faretra dell'opposizione, che secondo qualcuno ha pesato sulla mancata caduta del governo cittadino. Da lì violenti attacchi anche personali ad Argenio, tanto da indurlo a presentare le dimissioni. A freddo però il passo indietro, così spiegato. Sebbene io non sia abituato a cambiare la mia idea, sono altrettanto meno intenzionato a passare come quello che lascia alla prima difficoltà. Non è il mio costume, diciamo così, arrendermi e non rispettare quello che è il mandato che mi è stato conferito nel 2015 dalle persone che comunque a Chieti hanno votato il Movimento 5 Stelle. Ritengo che ci sia ancora tantissimo da fare in città e che nei quattro anni trascorsi di consigliatura io e la mia collega abbiamo fatto tanto. Siamo stati senza dubbio il gruppo consigliare più prolifico in termini di atti depositati, protocollati e discussi. E questo abbiamo fatto, insomma, consci del nostro ruolo di portavoce per cercare di far ottenere un risultato, diciamo così, utile per la città. Manuel Arcangelo, adesso sì, in qualche modo chiederete conto al sindaco di primio rispetto a degli annunci fatti nel momento in cui ha ritirato le sue dimissioni rispetto ad aspetti importanti come quello, ad esempio, del trasporto scolastico in città. Provvederemo immediatamente a controllare l'attività posta in essere dall'Aggiunta soprattutto in riguardo ai servizi che interessano di più alle famiglie di Chieti in particolare la riattivazione del trasporto scolastico e la riapertura degli asidi nido cosa che era stata chiusa l'anno precedente. L'assessore Gian Pietro ha dichiarato di voler far ripartire i servizi però ad oggi non risultano atti concreti e a settembre rinizierà l'attività scolastica per i bambini e per tutte le famiglie.